Compare anche una palestra piacentina nel Pilates Style Magazine, giornale di settore americano che ha inserito lo studio 38 di Via Romagnosi tra gli studi Pilates più belli del mondo, accanto a palazzi newyorkesi del XIX secolo o case sugli alberi in Costa Rica. Il soffitto in legno a cassettoni, le travi, la storia che si nasconderebbe dietro a queste stanze, a questo palazzo, rendono questo studio davvero unico nel suo genere, tant'è che è stato citato da una rivista americana e tra gli studi più belli al mondo. Se l'aspettava? Diciamo che ci contavo, nel senso che abbiamo ospitato sempre tanti corsi, tanti insegnanti stranieri e anche insegnanti che partecipavano ai corsi stranieri, americani, inglesi e tutti rimanevano a bocca aperta nel vedere lo spettacolo che c'è qui e quindi ci contavo perché effettivamente oggettivamente è veramente un posto stupendo. Mi sono trasferita qui nel 2003, quindi sono ormai 15 anni e dicevo che è stato un po' un caso, mi hanno proposto questo spazio e non ero certa di voler accettare perché era troppo nel centro storico, quindi temevo che fosse scomodo per le persone che arrivano, per i clienti. Poi quando ho visto il posto non ho potuto assolutamente dire di no e quindi è stato un colpo di fortuna. Ad attirare l'attenzione della rivista per quanto riguarda lo studio 38 è il soffitto in legno a cassettoni con motivi verdi e rossi con dettagli in stucco dorato che i clienti amano guardare stando sdraiati sul tappeto. Questo è uno dei pochi soffitti originali del 1600 di Piacenza e non si può non rimanere incantati, tra questa stanza e l'altra è uno spettacolo. Siamo in estate, qualche consiglio utile prima della prova costume e anche per rimettersi in forma poi da settembre? Allora, una cosa che mi sentirei di dire è che l'importante è muoversi e muoversi sempre. Fare quattro esercizi due settimane prima di partire non può avere tanta efficacia, non ce l'ha. L'importante è allenarsi, divertirsi allenandosi, farlo con costanza e anche al mare cercate di non uccidervi facendo cose che non avete fatto per tutto l'anno. Al mare godetevela, divertitevi, riposatevi e a settembre vi aspettiamo qua. No, no, no Grazie a tutti